Benvenuti in un nuovo video, come avete letto dal titolo, questo sarà il video spacchettamento Yves Rocher Molto lo chiamano Yves Rocher, Yves Rocher, io lo chiamo Yves Rocher, senza paura Allora, sì, è un video un po' diverso, è una tipologia di video che non avete mai visto sul canale Infatti, ero un po' incerta se farlo o meno E quindi, per togliermi sto dubbio, vi ho lasciato un sondaggio su Instagram E mi avete detto tutti quanti di sia E quindi l'ho girato così, per cambiare un po', per portare un'altra tipologia di video nel canale Voi fatemi sapere se vorrete altri spacchettamenti Sempre giù con un commento o alcuni, altrimenti no, non ci piacciono, non li portare più E io non li farò più Essendo che mia mamma è presentatrice di Yves Rocher Ed è comunque una buona linea, che mi ci trovo davvero stra bene E quindi ho voluto portarlo sul canale Però fatemi sempre sapere Comunque, il pacco in questione è così Funziona un po' come l'Avon Però è un altro marchio Comunque è un marchio più bio, non bio, a 100% E quindi lo apriamo insieme Allora, eccoci qui Questo è un pacco aperto Vado a togliere tutte le cartocce Poi troviamo due sacchettini che l'azienda ci ha omaggiato E' il suo solito che mette delle bustine Poi il nuovo catalogo Questo qui è il catalogo numero 13 E poi, anzi, metto sulle gambe così Vedete proprio tutto live Togliamo prima tutto il cartaceo Allora Vedete cos'è Sì, vabbè, questo è un invito da parte di Rocher Caduto Questo qui è il nuovo catalogo Già c'è qualche offerta Poi vedo altri cataloghi C'è ragazze Sì, dico ragazze perché ho up in i box Questo è il nuovo catalogo di Natale Oh, che bello Oh mio Dio Oddio Cioè, ma è bellissimo Bello Guardate Io adoro il Natale Cioè, per me il Natale È il Natale Non tanto Pasqua Ma il Natale, Natale Poi questo qui, vabbè, è il vecchio catalogo Proviamo La fattura Ed iniziamo subito Allora Vedo tanti sacchettini make-up C'erano Se si acquistava Se si spendeva 25 euro Reparto make-up Il regalo Davano Questa pochette Così che alla fine È un beauty Da bagno Si apre Con il bottone Ed è così Bello Il tessuto è bello Il tessuto è lino Qua c'è i vari scomparti Davvero comodo E quindi Mi hanno mandati due Allora, io dirò in questo video Mi hanno ordinato Però alla fine hanno ordinato Tutto a mia mamma Ma vabbè Allora Iniziamo con gli smaltini Prima facettino Allora Due smalti Questi qua Rinforzante Eccolo Io con questo rinforzante Mi ci trovo benissimo Si asciuga Subito Veramente subito E poi Dura No, io veramente Mi trovo bene Con i prodotti di Verosce Non perché sono di parte Perché mia madre Veroscea Però io mi ci trovo bene Anche con alcuni prodotti Soprattutto più sulla skin care Perché di make up Non l'ho mai provato Secondo me costa un pochino tanto Per quanto riguarda il make up Però Per quanto riguarda la skin care È approvatissima E quindi Questi due rinforzanti E poi uno smaltino Color carne Si vede proprio bene Il colore Devo dire la verità Toppo Quindi questo qui È il numero 04 Top Roseo Poi 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 Continuiamo sempre Con il make up Mi hanno ordinato Una matita blu Eccola qui Questa qui E quella là Ritraibile Poi 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 Mi hanno ordinato Un mascara Questo qui È il volume Volume Elixir Elixir Volume Elixir No, dico elixir Perché c'è il profumo Che si chiama così Volume Elixir Non si vedrà niente La confezione Perché è specchiata Comunque È rose gold Bellissimo E questo qui È colorazione nera Poi Mi hanno mandato Tre campioncini E poi Un balsamo Labbra Questo qua C'è un labbello E gusto Cariteo Ok Per quanto riguarda Il make up Abbiamo terminato Poi Mi hanno ordinato Due profumi Questi qui L'Evidence Eccole qui Questo qui Sono da 100 ml Allora Ci spendo Due parole Per questo profumo È vero Costicchia un po' Perché se non mi sbaglio Il 100 ml Quello da 100 ml Costa sui 36,95 euro Però Vi posso assicurare Che basta Una spruzzata Massimo due Non fate come la sottoscritta Che ne usa anche 10 E poi gli gira la testa Che già sono bella Va bene Comunque Basta due spruzzate E veramente Vi rimane Per tutta la giornata È un profumo Non si può paragonare Con gli altri Però È un profumo Che ha quella nota Bello È davvero bello Chi non l'ha mai provato E lo vuole provare Ve lo consiglio Infatti io Da quando mamma Fa l'Ivro Shea Non so quanti profumi Di questi qui Abbiamo ordinato Un po' tutti L'abbiamo provato Ma sono uno Più bello Dell'altro Poi voi voi Mi hanno ordinato Un set Questo qua Sensitive Vegetal Questa qui È la linea rosa Per le pelli sensibili Eccola qui E mi hanno ordinato Un latte detergente E questo qui È un acqua micellare Eccoli qui Bella Questa linea Non l'ho mai provata Perché io di solito Provo l'altra linea Quella la Blu Hydra Vegetal E quella lì Per la pelle mista Se non sbaglio Sì Ma è la pelle mista E io mi ci trovo Davvero bene Io Non riesco a cambiare Non devo gesticolare Non riesco a cambiare Il detergente Perché con quello Mi ci trovo Dato Io Sì Non so chi mi ha detto Che nei video Non devo tanto gesticolare Ma è una cosa Che mi viene spontanea Quindi fatemi sapere Se vi dà fastidio Però è una cosa Proprio mia Che gesticolo tanto E poi Come ultimo Prodottino Di questo pacco È un bagno doccia Questo qui Noce di cocco Questi bagno doccia Sono spettacolari Sì È un po' tutto spettacolare Per me È 400 ml Allora Praticamente Questo gel doccia Ne basta davvero poco E vi profuma Il bagno Cioè È una cosa Eccezionale Infatti Io ho provato Melograno Quello alla rosa Quello alla lavanda E sono Buonissime E nulla Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Un pollice in su Allora Fatemi sapere Se questa tipologia Di video vi piace Così io ve la riporto Se non vi piace Ciao 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 E quindi Io vi lascio Un grande bacio E noi ci vediamo Alla prossima Ciao